Sono Davide Silvestri, studente dell'Università degli Studi di Trento e studio Ingegneria Informatica. Ho avuto la fortuna di partecipare alla sesta edizione dello Startup Lab. Quello che viene fatto è intanto formare un gruppo su cui verrà sviluppata un'idea e alla fine del corso verrà presentata una giuria. Ho conosciuto compagni, quello che poi sono diventati compagni di gruppo appartenenti a economia, a giurisprudenza e comunque ad altri dipartimenti. È stata una cosa che mi ha arricchito molto perché ho imparato a ragionare in termini diversi e oltre a questo abbiamo dovuto creare un qualcosa di fisico, quindi diverso da tutti gli altri corsi universitari. Per prima cosa, saper lavorare con le persone e saper capire il loro carattere e le loro attitudini. Ultima ma non meno importante è stato proprio conoscere meglio me stesso, quali sono le mie passioni, le mie attitudini e cosa poter portare avanti. È un'esperienza unica, sul serio. Si scopre sempre di più cosa vuol dire sapersi relazionare con le persone. L'innovazione purtroppo è un campo in cui ancora nessuno sa molto e bisogna essere prima di tutto umani per poter innovare. Quindi, conoscendo nuove persone e allo stesso tempo allenandosi in un ambiente che comunque è molto bello, quello dello Startup Lab, penso sia l'ottica migliore su cui uno studente dell'Università di Trento dovrebbe riuscire a crescere.